Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video, analisi pre partita di Cremonese Parma che si giocherà domenica alle 6 e mezza prima di cominciare vi chiedo di mettere un mi piace e anche magari di seguirmi che prendiamo anche il calcio e tifosi del Parma che comunque farò video principalmente sul Parma ma comunque non mancherà l'occasione di fare video anche su altre squadre, Serie A, Europa League, Champions League eccetera eccetera e anche nazionale Cosa dire di Cremonese Parma? Cremonese Parma è la gara forse più insidiosa, più difficile che abbiamo affrontato in questa stagione finora perché la Sampdoria ripeto non mi convince molto a livello di rosa La Cremonese invece viene della Serie A e c'è un'ossatura comunque di giocatori di categoria esperti anche fin troppo essendo creata media molto alta e almeno a parole vuole anche quegli acquisti che ha fatto soprattutto di Coda, il tanto famoso Coda anche a Parma, vuole tornare in Serie A non è in partita proprio in maniera straordinaria ma comunque tra le neo retrocesse, tra le retrocesse è quella che comunque è partita meglio al momento si troverà proprio all'ultimo posto della zona per le off si troverebbe se finisse il campionato adesso magari finisse il campionato adesso ma purtroppo manca ancora un bel po' ho visto un po' le statistiche e anche lei è una squadra che pareggia molto l'ultima l'ha vinta però veniva là tipo a tre pareggi di fila quindi è una partita veramente insidiosa un po' come col Bari però a differenza che col Bari ha una qualità per la Serie B secondo me di molto superiore anche se comunque ci ha perso col Bari quindi poi il campo è sempre a parlare ha dei giocatori che per la categoria sono forti quindi Vertolacci, Koda appunto che è uno dei bomber più prolifici della storia della Serie B Quaiata, Serronicola, avrebbero anche Valeri per esempio Okereke che a me spaventa perché secondo me è molto forte è un giocatore che comunque negli ultimi anni in Serie A fa sempre almeno 5 gol l'anno scorso 7 se non sbaglio in Serie A è vero che non è una cosa scontata ma in Serie B potrebbe veramente essere devastante voi sapete forse ormai avete intuito che io sono una persona molto con i piedi per terra e forse anche un po' troppo pessimista ecco e finché non ho una certezza che per il mio cervello è una certezza faccio fatica a fidarmi al 100% e come ammettendo più volte che il Parma si vede che è una squadra completamente diversa o comunque molto diversa rispetto alle scorse stagioni più consapevole, con più carattere, con più qualità eccetera io ancora non mi fido al 100% di questa squadra qua la vedo sempre ancora che ricaschi negli errori soliti di queste ultime stagioni contro la Cremonese che ripeto è probabilmente l'avversario più forte che abbiamo affrontato finora ho un po' paura, ce l'ho perché per la legge dei grandi numeri non credo che non perderemo mai io ci metterei la firma, 30 firme ci metterei però prima o poi dovremmo perderne una ora mi direte se siete l'uccello nel malagurio spero di no cerco sempre di essere realista per non essere deluso ecco poi c'è anche una rivalità, un astio tra tifoserie quindi sarà un clima abbastanza, non dico caliente ma comunque notevole parliamo di Coda che in questi anni i giornali l'hanno sempre già fatto acquistare al Parma poi non è mai arrivato, sarà sicuramente un fattore, ha regalato un bel po' di punti alla Cremonese in quest'ultima partita ha fatto vincere anche l'ultima, ha vissato tipo al terzo, quarto gol di fila quindi è dura e poi arriviamo a un nome, arriviamo a colui che in primo anno di Serie B togliere anche probabilmente ci ha portato alla salvezza nella categoria insieme all'arrivo di Iachini che io avrei tenuto, aperto e chiuso parentesi colui che l'anno scorso ci ha trascinato o quasi comunque è stato gran parte fondamentale per il raggiungimento dei playoff cioè Vasquez qual è il mio pensiero di Vasquez? credo di averlo detto anche nel video che ho fatto quest'estate su chi tenere e chi no nel Parma Vasquez, io sarò sempre grato a Vasquez un giocatore straordinario per la categoria ma c'è un ma e credo che ci sia visto in queste prime partite Vasquez, noi eravamo troppo dipendenti da lui se lui non giocava e lui alcune volte non giocava anche se era in campo il Parma si spegneva non riusciva, diciamocelo chiaramente non riusciva a camminare con le sue gambe senza Vasquez quando invece Vasquez si accendeva qualcosa succedeva quasi sempre ma c'è un difetto Vasquez che è un po' troppo lento e se tu ti affidi a un giocatore di qualità immensa ma un po' troppo lento inevitabilmente comunque la manovra si rallenta poi i giocatori delle Parma erano inesperti giù molto giovani, hanno commesso degli errori non è certamente solo colpa sua eccetera eccetera però sembra un paradosso ma alla fine è stato un bene per noi averlo venduto Vasquez e si vede che la squadra è cresciuta senza di lui lui diciamo che è stato fondamentale per la crescita anche di questa squadra sicuramente ma ora mi sembra pronto per camminare con le sue gambe a differenza dell'anno scorso quindi grazie mille Vasquez però secondo me è un bene per la squadra che così finalmente può giocare da sola e crescere ancora di più comunque io sono quasi mega giga e sicuro che domani segna domenica segna sicuro aperta chiusa parentesi sarà una partita difficile sarà un altro test al momento di Parma non gli sta fallendo i test sarà un altro test importante per vedere se la squadra è veramente cresciuta e maturata per ambire veramente a una posizione di vertice per la Serie B grazie di aver visto questo video un saluto e Vasquez per favore ciao